Una grande notizia per i tifosi rosa nero di ogni età. Da sabato a 3 ottobre sarà in tutte le edicole di Palermo la raccolta ufficiale delle figurine della società rosa nero. L'album è realizzato in collaborazione con l'editore RD Galata. La raccolta comprenderà tutti i giocatori della rosa attuale. Ad ogni calciatore sarà dedicato il classico mezzo busto. Sarà presente anche un'ampia rassegna sulle più spettacolari coreografie dei tifosi di una sezione riguardante la grande storia rosa nero. Verranno ricordati i giocatori simbolo del passato e ci sarà una speciale gallerie sui più grandi campioni che hanno indossato la maglia del Palermo dal 2002 a oggi. La raccolta comprenderà 400 figurine che verranno proposte in bustine contenenti ciascuna 5 esemplari e 8 adesivi. Ogni bustina verrà venduta al prezzo di 60 centesimi di euro. L'album è stato presentato al Palermo Store di Via Macheda alla presenza del capitano rosa nero Stefano Sorrentino e Matteo Scassini che hanno incontrato i tifosi per firmare gli autografi. Noi siamo due editori specializzati in album di figurine ufficiali raccolte monografiche e siamo felicissimi quest'anno di essere finalmente approdati a Palermo con questo album di figurine interamente dedicato al Palermo Calcio. Con due sezioni distinte una dedicata esclusivamente alla rosa laddove abbiamo tutti i calciatori sia in mezzo busto sia in movimento ma anche per ciascun giocatore la maglia di schiena con nome e numero e l'autografo. La figurina con l'autografo poi c'è tutta la parte storica storia con la S maiuscola che è ovviamente quella dell'era Zamparini quindi dalle promozioni in serie A all'Europa alla Coppa Italia sfiorata contro grandissime squadre. La storia che si conosce ampia sezione dedicata alla tifoseria con tutte le migliori coreografie e ancora una sorta di visita guidata attraverso le figurine fuori e dentro il Barbera quindi sia la panoramica dello stadio poi la panchina, gli spogliatoi, l'area hospitality, la sala stampa e via dicendo. Grazie a tutti.